La campagna elettorale, soprattutto quando sono in occasione di incontrarsi, è chiaro di raccontare quello che si è fatto, di rendere conto e di chiedere anche un appoggio per il futuro. La regione Abruzzo ha un compito molto importante, un compito di compito possibile, non solo finanziari che sono stati fatti, ma anche etici e morali. E quindi io credo che per questo è la regione con cui chiederemo il sostegno per la possibilità regionale. Che campagna elettorale è? Quanta è diversa dalle altre? Questa è una campagna elettorale completamente diversa, mi sembra. C'è una frammentazione tale di partiti, di situazioni che determina una incertezza circa l'esimo elettorale, ci sono situazioni partiti nati nell'ultimo lento, frutto di frammentazione. Non si sa quello che può accadere con il prossimo governo, in un momento che potrebbe vederlo barcanizzato, e questo significa che per talese non ha di volte un grande rischio. Quindi io ritengo che alla fine si facciano scelte tra i suoi grandi partiti per cercare la dignità di questo rischio di barcanizzazione.